Salve a tutti i miei cari Zecchini stasera vi porto, stasera per me però, oggi vi porto una nuova tipologia di torneo questo è un sit, 27 persone registrate da 10 euro io qui vado ad aprire con ASSOCK, vedete sono il chip leader adesso vi faccio vedere la struttura, praticamente eravamo in 27 qui snappo, ASSOCK, KKK ho sbagliato a snappare, però prendiamo l'ASSO, attenzione attenzione, nice hand siamo a premi diciamo che era un un, come si dice un cooler ASSOCK, non poteva fare niente e qui per esempio, ISMA Baby stava aspettando praticamente, stava facendo praticamente, vede, sta aspettando sempre tutto il tempo per far alzare i blind perché così aumentano poi, vabbè, siamo straship leader 25.000 il secondo 6.000 riabbiamo ASSO, già che stiamo vedendo anche le carte 3.000 andremo a chiamare tutti esattamente sì, sì, perché abbiamo lo stack e loro così pushano un po' tutto ASSO X lo pushano anche K donna Kjack K10 suited pushano any to card diciamo lui folda io chiamo siamo sopra stavolta prende il 10 lui ASSO in the river niente raddoppia peccato perché va buttata fuori la gente adesso vi faccio vedere si foldo perché vi faccio vedere la struttura praticamente i giocatori eravamo solo 27 io sono straship leader, vedete i premi sono questi 89 euro al primo 64 al secondo 42 al terzo 24 al quarto 19 euro e 60 al quinto però stiamo vincendo 19 euro e 60 però spero di vincerlo una volta io giocavo solo questa tipologia di tornei una volta quando i tornei funzionavano che è rilancio all in io devo mettere devo mettere con 7-7 ripuscio 3-3 7-7 prendo il 7 drawing dead al turn e quindi aumenta la moneta lui prende 19,60 noi prendiamo un po' di più sunshine è all in forzato siamo sopra e siamo drawing dead anche lui al turn rimaniamo in 3 rimaniamo in 3 io foldo perché voglio vedere un attimo qua come la situazione dei premi il terzo prende 42 però penso che devo vincerlo questo torneo lui pusha quindi io foldo però ogni mio raise praticamente è un loro all in quindi a me tanto vale che faccio all in se lui ha un asso chiama AKQ prende il K ovviamente asso a river niente e lui raddoppia queste sono mani brutte da perdere perché sarebbe finito il torneo se avesse se avesse retto quell'asso e invece niente però lui ovviamente non poteva fare niente con con AKQ in quella condizione non poteva fare niente speriamo lui foldi ed io devo mettere donna Q la mia paura è che barone foldi io non voglio far risalire l'altro foldo vediamo quella è la mia paura vedete che barone foldi un asso noi andremo a pusharlo speriamo che barone non avremo il mostro in mano chiama anche lui con asso 6 asso 5 split mamma mia mi fa colore mamma mia mi fa colore vedete che devo usci terzo ora abbiamo sempre il doppio delle loro chip però adesso è molto diversa la situazione eh attenzione ha so donna 9-9 prende la la donna e fa full e il barone ci saluta e zap e zap siamo Kevin un po' più di me guarda qui è inutile stare 8-2 proprio neanche a pensare K6 lui fa col giochiamo un po' con calma vediamo lui fa 800 gliela fold alla prima dai non è che abbia info su questo giocatore cioè ne ho 0 praticamente andiamo a rilanciare se pusha ovviamente call lui non fa niente check io ci bet e lui fold ovviamente 6-8 vediamo se lui fa sempre call sì però stavolta gli ho reso perché se no questo mi chiama tutte le mani vedete il primo all in call sarà un casino reso push call è sempre pieno 9 9 9 9-7 ma è una gioia ma è una gioia ragazzi finiamo il torneo al secondo posto grazie per aver partecipato come al solito grazie a ma è una gioia ma è una gioia sempre pieni ragazzi sono e vinciamo 64 euro ne abbiamo spesi 10 va bene lo stesso bene ragazzi per questo video di poker è tutto ci vediamo al prossimo speriamo tavolo finale di un gran bel torneo ciao zechini